Oggi questa nuova puntata di Reteotto Libri inizia da qui, sempre dalla Liberia Coop del centro d'Abruzzo ma da questo spazio perché è uno spazio dedicato alle letture per i più giovani soprattutto in questo caso bambini ma anche più grandicelli e adolescenti perché inizio da qui, intanto non è uno dei miei soliti predicozzi ma insomma vorrei fare delle riflessioni sulla lettura, perché? E perché da questo reparto? Perché si dice, molti dicono che in Italia si legga poco naturalmente questo è vero, ma dicono anche che siano proprio anche i giovani bambini a leggere poco, che non ci sia un'abitudine vera e propria alla lettura eppure mai come in questi anni, parlo degli ultimi 20-30 anni io credo che non ci sia mai stato un fiorire di libri per ragazzi, per adolescenti, per bambini addirittura per bimbi che non sanno leggere, mai così vasto, articolato, colorato e variopinto come quello che c'è in questo momento ai miei tempi i libri che si leggevano in età adolescenziale erano insomma quei pochi che sono poi classici da Zanna Bianca alle avventure dei pirati di Monprasem fino magari a quelli un po' più specifici qualche collana diciamo dedicata alle bambine, nel mio caso c'era anzi io ricordo una in particolare che adoravo, era la collana Betti che mi piaceva moltissimo perché era una storia di ragazzine alle prese con i problemi del tempo e anche ben illustrate anzi se qualcuno, anzi qualcuna di voi dovesse avere in libreria fra i ricordi di infanzia e di adolescenza uno di quei libri io la pregherei questa persona di portarmelo qui non lo voglio in regalo, lo vorrei solamente vedere un libro della collana Betti perché lo vorrei fotografare e tenerlo un po' come ricordo e questo anche per creare la nostra comunità di lettori e di lettrici ma tornando a noi, dicevo si legge poco eppure libri per ragazzi e per bambini ce ne sono davvero tantissimi perché parliamo di questo? perché oggi diamo spazio proprio in questa puntata a queste fasce di età, i più piccoli dai 10-12 anni e poi i più grandicelli che comunque vanno da quell'età fino magari a 20 anni questo ci consente di parlare di due modi diversi di scrivere per i più giovani uno è quello un po' più classico cioè il libro dedicato a una storia X e nel nostro caso oggi parliamo del viaggio della parola di Siria Evangelista che è un libro un po' mitologico, un po' fantastico che racconta di come una dea abbia portato il dono della parola agli umani e l'altro invece è un libro di uno youtuber allora, youtuber, che cosa sono mai questi youtuber? innanzitutto non storcete il muso perché occupano una grandissima fetta di mercato per quello che riguarda le vendite e poi anche perché conoscere è una cosa buona sempre, comunque la si pensi anche se si è perplessi conoscere questi ragazzi che comunque determinano qualcosa insomma nel mercato librario ma non solo, anche nel costume in generale è sicuramente una cosa positiva noi lo faremo proprio in una bella chiacchierata a tu per tu come vuole la tradizione della Liberia Cop con Simone Pacello che è uno degli youtuber più affermati e più conosciuti e che però anche lui è caduto nel tranello cioè ha voluto scrivere un libro lo hanno già fatto tanti youtuber noi li abbiamo conosciuti, alcuni di questi e anche lui ha voluto scrivere un libro dunque questi sono i personaggi con i quali cominciamo la nostra puntata andiamo a scoprire il mondo di Simone Pacello Ciao a tutti ragazzi, qui è la web, web, borda se vuoi Pacello ho una crisi di identità siamo finalmente oggi tornati e non dovessi un video anche perché di vecchi video bravi vedete che state imparate perché di vecchi video come sempre non ne facciamo più ed oggi sono tornato con un video che a me sta particolarmente a cuore è un periodo che solo web sta impazzando o impazzendo cioè secondo me più che impazzando sta veramente impazzendo Antonio è già proprio lui il bambino di saluta Antonio saluta Antonio saluta Antonio 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 anzi no Antonio con la diridomo d'ossola solo una settimana che la nostra bacheca di Facebook è invasa da Antonio saluta Antonio Nome? Simone Cognome? Pacello E tu sei uno you? Uno youtuber, un creator No vedi un creator, così si dice oggi ho imparato ancora un'altra cosa una marea di visualizzazioni su YouTube milioni, miliardi, non so più quante sono Milioni, miliardi non esaggetiamo ancora milioni per il momento poi magari che sai un giorno possiamo parlare di miliardi però non credo E tu sei quello che si definisce oggi la star del web Un creator, mettiamola così no, star del web magari sono altre io sono solo un ragazzo che come tanti si diverte a far video e alla fortuna che ci sono delle persone appunto che sorbiscono il mio modo di essere superante mettiamola così Allora, quando hai cominciato? Un po' tanto tempo fa dicembre 2012 in classe con un gruppo di miei amici ho iniziato così per gioco E oggi hai quanti anni? Ne ho 20 e ho sempre la stessa capa di Sei cambiato di una virgo? No, un punto è virgo, diciamo, sono cambiato però principalmente sono sempre lo stesso Allora, ho visto qualcosa naturalmente insomma, ovviamente quello che si addice alla vostra età quindi scansonati freschi con una spruzzata quella di temi seri e un po' di goliardia e questo è Questo sì anche perché di sicuro veniamo da generazioni differenti come magari in precedenza i nostri nonni sono nati con le radio i nostri genitori con le tv adesso i bambini e i ragazzini di oggi nascono già con uno smartphone tra le mani quindi di sicuro si interfacciano molto più velocemente molto più facilmente a quello che è il mondo del web quindi al mondo dei creator piuttosto che al mondo della tv quindi ci sta e sono felice soprattutto di essere seguito da un target di persone che principalmente capiscono i contenuti che porto e poi giustamente sono visti giustamente con un occhio totalmente differente da parte delle persone più grandi che non appartengono al settore quindi ci sta Ma sai, io credo che poi alla fine cambia solo il mezzo in realtà i giovani sono giovani in ogni secolo anche nel secolo scorso che era il mio diciamo però cambia solo il mezzo di espressione quindi poi alla fine ci sta la gogliardia ci stanno i temi seri ci stanno le risate questo ci sta tutto oggi i mezzi sono quelli e chiaramente forse a voi viene data in più la possibilità di in qualche modo sfruttare questi nuovi mezzi anche per farvi conoscere per insomma poi magari un domani farne professione tanto che tu hai scritto un libro Purtroppo, purtroppo giungo sì anzi penso che sia una delle cose di cui vado più fiero in assoluto penso che è stato un anno incredibile perché penso che nel 2016 ho fatto davvero tante forse pure troppe cose nel senso che sono passato da fare due stagioni magari per un programma di Sky al film al cinema di 2 a dicembre e a gennaio il 22 gennaio ho cito il libro Penso ma non lo penso appunto con Mondadori però ti dico sono sincero nel senso che di tutte le esperienze che ho fatto da qui a un anno vedi la tv vedi il cinema vedi il libro quello del libro è la cosa che mi ha caratterizzato e mi è piaciuta particolarmente se non di più senza nulla scritta delle altre cose perché magari mi ha dato appunto la possibilità di esprimermi in maniera differente magari con i video e con i video in sé hai solo la parola e la voce per esprimere quella che è la tua comicità mentre il libro mi ha dato l'opportunità di esprimermi diciamo in tutt'altro modo appunto tramite la parola e tramite le frasi e penso che appunto per quello che voglio fare io da grande appunto in trattenimento dal vivo magari portare monologhi comici a teatro la stesura appunto di periodi e di frasi comiche mi ha solo che ha aiutato anche perché il mio appunto è un libro comico che nasce per non essere preso nemmeno troppo sul sete appunto da lì il titolo penso ma non lo penso è un po' mettere le mani avanti su tutto quello che ho scritto su quello che ho detto e di sicuro è stata un'esperienza per me incredibile che mi ha aiutato tanto il film mi ha dato la possibilità di fare un qualcosa che non sognavo e non pensavo nemmeno di poter fare però il giusto compromesso appunto che il perché ho accettato di fare un film era perché semplicemente nel film incarnavo quello che ero sul web appunto facevo Howard facevo Simone Pacello facevo la youtuber quindi non ero nemmeno richieste tutte queste doti attoriali al momento che dovevo interpretare me stesso e se non sono in grado a parer mio di interpretare me stesso forse c'è qualche problema alla base quindi non vuoi fare l'attore anche? guarda al momento preferisco se domani mi chiedessero fai questo film drammatico e tu sei il protagonista principale drammatico ti dico assolutamente no anche perché sono fidanzato con un'attrice e so che cosa vuol dire recitare e almeno lei me l'ha insegnato che cosa vuol dire recitare e quanta importanza ci vuole quindi da quel punto di vista al momento preferisco lasciare a chi merita determinati settori poi chissà in futuro magari avendo comunque l'aiuto magari della mia ragazza studiando perché penso che solo studiando uno è in grado di poter fare le cose non dico al meglio ma quasi in futuro magari chissà perché ve la prendete tanto sul web in qualche modo con Greta Menchi che è stata tra l'altro anche qui al centro d'Abruzzo e come tanti altri youtuber insomma Greta Menchi è una di quelle che ovviamente ha avuto anche tanto seguito qui ma come tutti e come sicuramente sarai tu fra poco questo lo spero lo auguro per quanto riguarda il Greta Menchi sul web nel senso il web essendo libero dalla possibilità a tutti di potersi esprimere in un certo qual modo e il tutto viene fatto non con cattiveria ma con satira nel senso che sotto sotto nel senso magari una volta che il video viene visto anche da Greta le si fa due risate ti scrive in privato e si fanno due risate cosa che non penso che magari sia fatta con la tv nel senso che certe volte quelle frecciatine fatte in tv sono diciamo mirate per voler colpire un determinato personaggio per screditarlo in generale però ti dico senza ombra di dubbio essendo all'interno del settore del web in generale ed essendo comunque facendo parte anche della community di quella che è YouTube Italia in un certo qual modo siamo ognuno amico con l'altro quindi dal momento che c'è una frecciatina nel modo dell'altro si sa che è fatta puramente in modo ironico e soprattutto sarcastico e anzi molto spesso siamo noi che magari contattiamo stesso la persona che in un modo o nell'altro lo prendiamo in giro all'interno del video per farsi guardare il mio prossimo video perché in un modo o nell'altro parlo di te generazione di fenomeni siamo noi generazione di fenomeni ma come mai siccome questa è Reteotto Libri dopo tutto parliamo di scrittori Simone Pacello perché scrive? a me piace tantissimo scrivere e rileggere ciò che ho scritto soprattutto se ciò che ho scritto a me fa ridere non vedo l'ora che venga letto anche da altre persone ma un giorno s'alzerà una voce al primo piano aprirà la finestra e dirà torna a vivere la parola stamane cantò una civetta tarda fiorì la gola di mille pergamene il passo del silenzio si fermò in ascolto noi utilizziamo un linguaggio molto più alla portata dei ragazzi che ci seguono noi utilizziamo di sicuro un linguaggio che magari appartiene a quello che è il mondo della tv o magari al mondo del cinema che utilizzano degli schemi precisi quindi questo di sicuro facilita il collegamento quello che appunto come dici tu l'incontro appunto tra il web e magari vedi un prodotto come può essere quello di un libro fatto appunto dal linguaggio che utilizziamo ti piace leggere? a me sì a me tanto voglio essere sincera a me piace leggere però il lavoro che faccio è che uno dice ok fai lo youtube fai il creator non fai nulla assolutamente no perché tra l'idea la realizzazione il montaggio la pubblicazione la condivisione del video comunque il tutto richiede comunque tanto tempo soprattutto se vengono realizzati tanti video settimanali quindi cosa leggi? a me personalmente piace tanto qualsiasi tipo di libro che mi trasmetta qualcosa un pensiero magari di uno scrittore o di un autore in generale nel senso che l'ultimo libro che appena ieri sera ho finito di leggere era inerente comunque a Andy Warhol e oggi è iniziato magari una biografia in sé per quanto riguarda Woody Allen che apprezzo personalmente perché sono comunque artisti che in un modo o l'altro pensando in maniera totalmente differente che quello che magari è la linea di pensiero di una persona comune riescono a prefissarti a lasciarti un qualcosa su qualsiasi tipo di tematica o di argomento generale quindi tutto ciò che in un modo o l'altro può aprire la mia mente quindi allargare i miei orizzonti nella mia visione generale delle cose io lo accolgo volentieri va bene grazie Simone Pacello lunga chiacchierata ma così ti abbiamo conosciuto meglio perdonami che sono logotoico però quando parlo mi diverto e quindi è meglio visto il mestiere che fa insomma se tu fossi un taciturno non saresti un problema sarebbe un problema quello Siria Evangelista ha scritto il viaggio della parola edizioni tabula fate intanto Siria Evangelista è una scrittrice nostra perché lei arriva da Cepagatti e ha voluto insomma dedicarsi alla scrittura per i più piccini con una storia un po' mitologica un po' fantastica che racconta di un dono bellissimo che è quello della parola e quindi in una libreria ci sta più che bene perché quindi parole ne abbiamo tantissime nei libri perché la scelta di rivolgersi ad un pubblico di più piccini? Allora veramente io da parecchio tempo scrivo per la narrativa giovanile perché mi dedico proprio la didattica con testi curriculari di aiuto e quindi inizialmente ho iniziato con delle storie di favole ho visto anche qui ci sono dei miei testi che il mio editore ha portato ho scritto anche per adulti però adesso sono proprio appassionata sono appassionata perché sono nelle scuole quindi lavoro con i bambini e loro mi danno tanto spazio tanta fantasia e stivo con molta leggerezza e quindi mi gratifica il mio spirito si alleggerisce ed è sempre più felice io ho voluto giocare con la penna per rappresentare che noi umani abbiamo ricevuto il dono della parola in realtà è un inizio spero di poterlo fare di incontri con i poeti letterati italiani anche magari europei perché la mia passione nasce proprio da questo nasce dal fatto che io ho sempre studiato letteratura mi sono sempre appassionata alla cultura ai poeti ai letterati e quindi adesso inizio il viaggio della parola è un inizio dopodiché le tre gemelline incontreranno Lorenzo il Magnifico Ludovico Ariosto questo per cominciare e poi mi piacerebbe tanto lo anticipo incontrare il nostro poeta di Pescara allora tutto inizia da Verba sì allora Verba è una giovane dea figlia di Atena che praticamente riceve dalla nascita il dono delle capacità queste capacità proprio di costruire il linguaggio che poi lei nella maturità ha 18 anni deve regalare a una specie di sua preferenza di sua scelta quindi lei scende sulla terra sul pianeta terra che ha sempre visto ha sempre sentito raccontare dalla mamma e così casualmente poi vedrete nel libro perché sceglierà queste tre gemelline grazie a tutti 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 di un nuovo genere diciamo così letterario che si affaccia nelle librerie da qualche tempo e che deriva dal web dalla televisione perdona dai canali youtube sono tanti ragazzi che si collocano su youtube per proporre i loro video più o meno scansonati più o meno seri più o meno tutorial più o meno riflessioni o goliardate molti di questi noi li abbiamo avuti ospiti qui alla libreria copp scelgono anche di scrivere un libro io mi chiedevo ad inizio di puntata per la lettura per fare bene alla lettura e ai lettori vale tutto cioè si può iniziare per esempio qualche tempo fa c'è stato il boom di harry potter o di twilight io mi chiedo quei giovani quei ragazzini che hanno iniziato con harry potter o twilight continuano poi a leggere è comunque una ispirazione qualsiasi libro si prende in mano io credo di sì credo che comunque la lettura sia sempre positiva poi si comincia da un genere in base all'età in base alla propria al momento ecco di vita e penso che poi si continui sempre magari l'età cresce quindi non si sceglie a parte chi ama il fantasy comunque anche da gran quindi il tipo di harry potter ma poi noi credo di sì rispondendo alla domanda l'importante è leggere l'importante è aprire la mente a nuovi orizzonti quanto spazio c'è oggi perché dicevo anche che si legge poco sia gli adulti che i giovani leggono poco eppure questo è un periodo storico penso in cui c'è maggiore scelta anche per i più giovani insomma ai miei tempi dicevo poco fa non c'era assolutamente un reparto intero di una libreria con tanti titoli e tanta varietà a questo non corrisponde altrettanta varietà il numero di lettori secondo lei perché c'entra ancora sempre la rete il web gli smartphone o c'è altro o non è così? guardi io veramente ho scelto di stare un po' ai margini quindi lavoro diciamo frequento tutti i ragazzi i bambini nelle scuole vado proprio a propormi e sono con loro io vedo che a quell'età si legge tantissimo c'è un ritorno forse c'è stato un periodo in cui c'è stata questa mancanza in cui quella lettura è stata considerata non un gioco ma un'imposizione credo è una mia idea e quindi magari ci si è dedicati ad altro ecco più al visivo alla televisione ma si sta tornando tantissimo perché nelle scuole si fa tanta si fa tanto lavoro per la lettura vedo che i bambini sono appassionati e poi siamo anche noi che dobbiamo creare dei testi simpatici leggeri fantasiosi che stimolino il lettore credo sia questo si è adeguata anche la proposta dei libri che viene fatta a scuola ai nostri tempi ai miei tempi si leggevano quelli e nient'altro credo che oggi si diano anche come lettura dei testi magari su temi importanti ad attualità e non solo anche storici io credo di sì perché i ragazzi di oggi sono molto attenti sono molto aperti navigano proprio continuamente nel mondo della conoscenza e quindi vanno stimolati con testi belli simpatici divertenti e nello stesso tempo che attiri la loro attenzione ecco testi meno pedanti meno pesanti credo io il viaggio della parola inizia dunque una serie quindi quando vedremo le tre gemelline ancora all'opera? presto presto perché abbiamo già pronto l'incontro con il magnifico che incontrerà la nostra protagonista europea e quindi penso 5-6 mesi non di più perché abbiamo fretta di incontrare il nostro grande poeta di presentarlo ai bambini di Pescara ai ragazzi di Pescara in forma più divertente più libera e più è meno diciamo meno classica e da nuncio insomma era odiato una volta a scuola sì siccome ancora adesso quando ne parlo tutti alzano un po' la mano dico vi farò innamorare di questo nostro poeta perché dobbiamo amarlo e li dobbiamo essere riconoscente veramente il nostro il nome di Pescara va avanti e poi a me piaceva tantissimo io lo amo e quindi lo proporrò sotto una veste simpatica allora grazie a serie evangelista il libro è Il viaggio della parola edizione Tabula Fati Gli prossimi appuntamenti con la Liberia Cop del Centro d'Abrusso ce li racconta Erika insomma ci sono cose interessanti e che abbracciano più settori sì abbiamo tre giornate iniziamo venerdì il 10 marzo con un libro sulle allergie Nicola Verna è un allergologo locale che appunto ha scritto questo manuale insomma per i pazienti allergici di pagina editore e appunto fa una carrellata insomma di quello che è l'allergia oggi con un diciamo un linguaggio molto semplice anche per non addetti ai lavori quindi dove dà delle linee guida e delle dritte su come affrontare insomma le allergie altro un problema sempre più diffuso che si diffonde sempre di più e che quindi insomma interessa tante tante persone e il giorno dopo l'undici che è sabato abbiamo due autori che ci sono molto a cuore perché sono già venuti a trovarci con un altro libro per ragazzi che è Giù nella miniera che sono Igor De Amicis e Paola Luciani che questa volta hanno scritto per la collana grandissimi di Edizioni L la storia di Tutankamon quindi ci vengono a trovare con questa nuova avventura che ci racconta insomma del faraone Tutankamon loro sono davvero in gamba perché riescono a parlare di temi importanti ai ragazzi ai bambini e anche di temi dal punto di vista sociale molto importanti come è il caso di Giù nella miniera che parlava di Marcinelle ma anche in altri libri gli è stato chiesto di dedicarsi proprio al racconto di una figura storica importante come Tutankamon e loro naturalmente lo hanno fatto appunto rivolgendosi ad un pubblico più giovane e quindi diventa una storia gradevole anche per i più piccoli piccolini esatto e poi un bel nome il giorno dopo abbiamo domenica 12 marzo abbiamo Achille Occhetto che viene a presentarci verso l'editore i pensieri di un ottoagenario alla ricerca della libertà nell'uomo quindi è un libro importante un libro di cui si sta parlando moltissimo anche a livello nazionale nei programmi radio tv sui giornali intanto perché Occhetto diciamo è quello che è mutato quello che oggi è il partito democratico e poi perché con la crisi con quello che succede nel PD viene anche spesso interpellato a commento di quanto accade nel PD ma questo è un libro che non è specificatamente di politica ma è di filosofia politica quindi ha un approccio interessante e cita proprio anche diversi filosofi nella loro accezione appunto più politica sono i pensieri di un ottoagenario ma è un signore un arzillo ottoagenario direi infatti quindi insomma vi aspettiamo numerosi perché sarà sicuramente un incontro molto interessante perfetto grazie Erika grazie grazie a tutti grazie a tutti